Musica Cari telespettatori buonasera a tutti e benvenuti a Primo Cittadino questa stagione la chiudiamo insieme al sindaco di Fano Massimo Sere che ha raggiunto i nostri studi Buonasera sindaco Buonasera e buonasera a tutti i telespettatori di Fano TV Sia oggi che nei giorni scorsi ci sono arrivati veramente tantissimi messaggi da parte dei nostri telespettatori per cui abbiamo pensato oggi appunto visto che è l'ultima puntata elencarvi esattamente i cantiere in corso, quelli in partenza, le gare così che cerchiamo sindaco di dare più risposte possibili ai cittadini che ecco ci stanno continuando a scrivere direi di partire però con l'alluvione, lo stato d'emergenza lo sappiamo è stato esteso anche a sette comuni della regione Marche tra questi c'è anche Fano, la conta dei danni sindaco pubblici e privati c'è una prima stima? Beh intanto voglio dire che sono stati momenti difficili quelli dell'alluvione ovviamente le nostre zone sono state meno colpite di quelle che come vediamo anche dai servizi televisivi dell'Emilia Romagna verso cui va tutta la nostra solidarietà anche questo momento ancora molto difficile per loro ma anche noi siamo stati travolti, coinvolti, sono stati diversi i danni noi abbiamo quantificato, sono diversi milioni i danni che abbiamo subito come pubblico stiamo raccogliendo anche i danni dei privati ad oggi ci sono arrivate solo tre segnalazioni anzi colgo l'occasione per ricordare che abbiamo costituito un indirizzo email dove possiamo raccogliere le segnalazioni dei privati che vogliono appunto portare all'attenzione i loro danni subiti l'indirizzo è maltempo.maggio.2023.comune.fano.pu.it e dicevo siamo stati inclusi nello stato di emergenza quindi arriveranno delle risorse noi abbiamo chiesto risorse per esempio un milione e otto per le frane che ci sono state per tutte le situazioni che sono create anche con gli alberi, con le varie situazioni nelle varie nelle strade ma anche a Ponte Sasso? anche a Ponte Sasso dove ovviamente, no ovviamente, sono già state frequenti situazioni di questo tipo in questo momento sono in corso dei lavori voglio ricordare, ho avuto il battesimo quando sono stato eletto dal sindaco proprio con Rio Crinaccio quando esondò, creò una situazione difficilissima noi da subito intervenimmo, prima facendo un'indagine per capire quale fosse la causa abbiamo fatto un primo intervento importante nel lato mare dove devo dire, insomma, ha dato le risposte significative perché prima di quel momento quella zona esondava due o tre volte all'anno di solito più d'inverno che d'estate quindi si notava meno e adesso stiamo facendo un ulteriore intervento sempre nella zona mare più a monte però c'è un altro problema abbiamo rifatto fare un'indagine sulle cause perché lì c'è una raccolta di acqua al di là del fenomeno più forte che avvengono in questo periodo un po' da avuti anche dei cambiamenti climatici però lì c'è anche un tema di acque che scendono reggimentate dalla collina che arrivano da monte e anche dei lavori della terza corsia abbiamo rifatto fare un ulteriore studio che ci hanno dato delle indicazioni dei piani di intervento, uno di questi che è il più urgente dal mio punto di vista perché se guardiamo mi segnalavano, fra l'altro mi sono incontrato sabato mattina con alcuni residenti di Ponte Sasso tra cui Franco Bartolini, il consigliere Pagnetti e altri che venivano a segnalare ancora e mi facevano notare che nell'arco dell'ultimo anno sono stati quattro volte rio Clinaccio a monte esondato e lì c'è un primo intervento che dialogano con quello che abbiamo già fatto è rialzare un tratto dove passa il fosso sulla statale per una competenza ANAS, noi abbiamo già scritto ad ANAS abbiamo già avuto delle interlocuzioni questi elementi che mi hanno portato anche sabato mi aiutano fra l'altro mi hanno già detto che raccoglieranno delle firme io le ringrazio che possono essere di aiuto chiederò anche il prefetto come ha fatto in alcune circostanze per farci aiutare nel coinvolgere, nel responsabilizzare anche ANAS non è un lavoro eccessivamente costoso ma può portare un beneficio importante quindi questa è anche una comunicazione che voglio dare stiamo lavorando su questa direzione e dicono che c'è una frana sulla strada del giardino a Ferretto e lì da diversi anni per cui se qualcuno può fare qualcosa e intervenire Sì, adesso fra l'altro stiamo intervenendo con delle risorse su Carignano e altre risorse, dicevo abbiamo chiesto quasi 2 milioni per le frane sia quelle storiche che quelle che si sono aggiunte con l'ultima pioggia Proprio per mettere sicurezza al territorio dunque Parliamo un attimo dell'interquartiere della biblioteca federiciana perché come sapete dopo il parere del dirigente Celani nei giorni scorsi esplosa un po' la preoccupazione per un eventuale default oltre nel caso in cui dovessero saltare i finanziamenti oppure si dovessero interrompere i lavori Brevemente Sindaco, vogliamo fare chiesto? Sì, allora mi rivolgo ai cittadini perché in questi giorni fra l'altro io ero fuori e poi onestamente dopo 9 anni non ho più voglia di fare polemiche sterili su contenuti che non sempre corrispondono alla realtà Le preoccupazioni sono giuste però vorrei dire adesso con tutti i limiti poi chi è che non fa degli errori però il senso di responsabilità mi ha sempre appartenuto l'ho sempre dimostrato in questi anni e non è che perdo la testa nell'ultimo anno dove metto in discussione la sicurezza della nostra amministrazione Quindi cercherete altre fonti di finanziamento? Adesso devo spiegare qual è il problema che si è creato? Siccome siamo in un paese, l'Italia, dove le cose semplici non ci sono sono sempre dei punti interrogativi, delle scadenze devono combaciare con i progetti siamo in una fase di concitazione, di grande lavoro fra l'altro, lasciatemelo dire, siamo stati bravi perché se facciamo queste discussioni è perché abbiamo avuto finanziamenti perché la Federiciana è stato il primo finanziamento a livello italiano prima del Maxi di Roma per il suo valore quindi è un riconoscimento, è un bel risultato è chiaro che nascono le complicazioni se non fossero stati bravi non avremmo parlato di niente perché i problemi non ci sarebbero stati questo mi piaceva dirlo allora, le delibere che abbiamo portato e che ha aperto una grande discussione è quella che noi in questo momento dobbiamo fare un atto amministrativo che ci consente di poter intervenire su tutte le situazioni consapevoli che ci sono molte incertezze consapevoli che ci sono delle difficoltà probabilmente alcune scadenze forse non vengono rispettate ci sono dei problemi tecnici sulle progettazioni però se non siamo pronti nel momento in cui c'è l'opportunità noi rischiamo di non poter partecipare quindi non fare nulla significa già a priori dire noi non ci abbiamo provato per niente poi è chiaro che un'amministrazione non è in grado di sostenere è in grado tecnicamente infatti parere del... però ha un... i costi sono elevati esatto, ha un peso quindi devono esserci risorse aggiuntive abbiamo tanti rappresentanti di questo territorio io ho visto in altre città, in altri momenti sono arrivati milioni così cash una parola non bella, però veritiera su delle cose non neanche tanto importanti dati dei rapporti con i ministri quindi su un progetto come questo potrebbero arrivare quindi lo chiederò alla Regione ai nostri parlamentari se si riescono ad avere risorse aggiuntive è chiaro che questo è qualcosa che lascia un segno forte nella città quindi vorrei tranquillizzare i cittadini poi c'è chiaro a un anno delle elezioni si gioca su tutto e si cerca di alimentarla per questo poi sulle interquartieri è quello che è stato detto niente di nuovo sono cose che conosciamo difficoltà e incertezze che ci sono in tutti ma qua siccome è un intervento di 20 milioni è chiaro che se c'è qualcosa che non va il peso sulle finanze del Comune sono significative quindi questa è la situazione ci sarà anche un altro passaggio in Consiglio Comunale sull'interquartieri poi dopo ognuno farà quello che riterrà più opportuno ma noi come amministratori ci sono degli atti delle azioni che dobbiamo fare Parliamo invece adesso della rotatoria di via Moriconi abbiamo seguito la scorsa settimana anche un sit-in da parte dell'Udc di alcuni residenti perché hanno segnalato già più volte la pericolosità di questa rotatoria della mancanza di visibilità ma anche dell'auto a forte velocità prenderete dei provvedimenti Sì, intanto il pensiero va a chi ha subito l'incidente tutto l'affetto fortunatamente si è fatta male però sta recuperando quindi tutta la vicinanza e da una parte anche la scusa perché come si dice è sempre colpa del sindaco però al di là di questo un sindaco si sente anche il peso quando accadono queste cose dispiace perché la città è un po' una grande famiglia e ogni cosa che accade a un cittadino uno se la sente proprio e devo dire mi è dispiaciuto ho chiamato subito i familiari per accertarmi del stato di salute in quel momento insomma fortunatamente le cose nella situazione grave che si è creata devo dire adesso c'è una ripresa e quindi va ulteriormente il mio saluto di buona guarigione alla signora che conosco fra l'altro quella è una situazione di pericolo ovviamente non ci sfugge lì c'è stato il lavoro delle opere compensative di società autostrade noi avevamo già chiesto di darci delle indicazioni come intervenire comunque nell'immediato ci sarà un intervento di segnalazioni acustiche e visive per poter aiutare a segnalare la presenza della situazione di pericolosità ovviamente questo non è sufficiente è una piccola cosa però è un piccolo primo passo poi l'assessore Brunori mi ha già detto che stanno lavorando per dare un incarico per capire perché lì ci sono problemi tecnici come spostare di quanto spostare come spostare le barriere che coprono non rendono visibile la rotatoria e capire come possa essere realizzato un attraversamento in sicurezza daremo un incarico esterno perché ovviamente in questo momento siamo impossibilitati nel progettare internamente perché come vedremo anche dopo siamo pieni travolti da cantieri da progetti da gare e quindi c'è una difficoltà oggettiva in quel senso allora iniziamo a fare un attimo un elenco dei vari cantieri in corso per tutti i telespettatori che si fossero sintonizzati da poco diciamo che stiamo ricevendo veramente una marea una marea di messaggi per cui cercheremo di fare insieme al sindaco un botte risposta con i lavori in corso e quelli che partiranno per cercare di dare ecco una risposta a tutte le domande che ci sono arrivate sino a questo momento cantieri in corso partiamo dal progetto famose quindi Viale Mariotti Piazza Le Bonci poi Sant'Orso sì qui stiamo procedendo l'avevamo annunciato tante volte finalmente ci siamo in questo momento stanno lavorando Viale Mariotti Piazza Le Bonci poi andremo a Sant'Orso dove ci sarà la via principale adesso non mi sfugge il nome ma dovrei averlo via Bellandra via Galileo Galilei che è una strada importante via Suncino via Galilei e via Bellandra poi a Sant'Orso faremo altre strade ma questa è collegata a famose con alcuni interventi di rallentamento poi visto che ci siamo siamo lì vicino la zona Mariotti il bastione Sangallo e da quando sono stato eletto tutti mi segnalavano l'indecenza e la situazione di non decoro anche perché è molto utilizzato quella pavimentazione che porta verso la stazione chi viene dalla stazione che prende il treno era vergognoso avete visto adesso il cantiere è già partito stanno lavorando e quindi adesso il tempo di finire i lavori anche quello verrà un bel lavoro renderà anche più bella quella zona invece al Forbuario Forbuario avete visto abbiamo fatto il primo pezzo adesso la parte centrale i prossimi giorni verrà riaperta perché inizieranno i lavori nell'ultima parte verso mare quindi adesso potranno essere utilizzate anche la parte dei parcheggi centrali per i primi di luglio consegniamo il parcheggio completamente rinnovato e anche quella è una bella risposta visto che ci siamo rimaniamo sui parcheggi a settembre asfalteremo anche il parcheggio Sport Park purtroppo dovremo fare l'estate in quella condizione non riusciamo a fare tutto contemporaneamente però anche quello lo sistemeremo era un impegno che da sindaco avevo già preso adesso con l'assessore i lavori pubblici è stato portato avanti quindi a settembre faremo anche il parcheggio dello Sport Park a proposito di asfalti dopo sindaco vi farà un elenco breve degli asfalti appunto che partiranno nelle prossime settimane nei prossimi mesi perché già anche qui ci stanno arrivando diversi messaggi strada di mezzo attendete rimanete sintonizzati passiamo sotto passo del vallato sotto passo del vallato avete visto i lavori si stanno facendo anche lì c'è una situazione di decoro sistemazione del sottopasso delle pareti verrà anche asfaltato verrà decorato e quindi fino al 9 giugno ci sarà col semaforo verrà regolarizzato ci scusiamo per il disagio però d'altronde quando si fanno i lavori un po' di disagio c'è poi finiti i lavori ci sono tutti i vantaggi dell'intervento che viene fatto ci sarà anche un nuovo impianto di installazione luminoso sempre lì nella zona di Rio Crenaccio dicevamo prima gli scavi sono terminati esatto avanti avanti l'intervento parco urbano parco urbano invece parco urbano anche qui sono gli ultimi ultimati gli allacci del primo tratto sono rintervenuti nel primo tratto di pavimentazione ora nel terzo lotto con la realizzazione pista ciclabile mancante si va avanti rimaniamo nel zona parco perché la casa del parco verrà appaltata in partenza casa del parco partiranno a giugno i lavori già appaltati già c'è la ditta quindi a giugno inizieranno anche i lavori della casa del parco passiamo direttamente alla ciclabile dell'Arzilla ciclabile dell'Arzilla il tratto dal Ponticello fino al canale Morelli riapriranno entro il mese di giugno poi si farà il tratto di affiancamento alla vasca dell'Arzilla entro il mese di luglio in attesa che quest'ultimo stralcio i ciclisti usciranno sulla statale all'altezza dell'imbocco della stradina che conduce alla cantina Morelli per poi attraversare la statale ed entrare in via del Moletto quindi per luglio sarà terminata anche quella sarà una bella opera stata molto discussa però vedrete quando sarà ultimata e anche la vegetazione sarà ricresciuta sarà un'altra cosa e penso molti si ricrederanno ci hanno chiesto informazioni anche sulla fontana della fortuna sì la fontana della fortuna è efficientemente in corso anche qui abbiamo stanziato con l'ultima variazione anzi abbiamo messo con quella che andrà nel consiglio di domani altri 80 mila euro verrà risistemata fra l'altro sono state scoperte anche cose interessanti che verranno valorizzate con il recupero ci hanno chiesto informazioni anche per i bagni pubblici ci hanno scritto esattamente le ricordo che fanno non ci sono bagni pubblici sindaco hanno perfettamente ragione me ne vergogno di questa cosa senza mezzi termini perché bisogna avere l'umiltà anche di dire quando le cose non vanno il progetto ce l'abbiamo qualche difficoltà adesso essendosi accumulato tutto quanto con la sovrintendenza avevamo individuato anche dove era possibile installarne vicino il parcheggio di Viale Ceccarini però non sarà nell'immediato pensiamo anche con i lavori della riqualificazione di Piazza Andrea Costa di risistemare e renderli disponibili anche i bagni esistenti ma che sono in una situazione non raccomandabile di rivalorizzarli e sistemarli cimiteri allora ci dicono da una parte che al cimitero di Bellocchi da molto tempo non ci sono più loculi disponibili per la sepoltura dei defunti d'altra parte allora buonasera volevo sapere dal signor sindaco che al cimitero a far sapere che al cimitero di Rosciano all'entrata monte al padiglione C non c'è una scala per arrivare ai loculi più alti ci sono dei lavori previsti allora adesso per la scala lo segnalerò adesso queste cose ovviamente a un sindaco sfuggono e sui lavori noi abbiamo stanziato adesso dobbiamo fare una variazione perché ci rendiamo conto che è una situazione delicata è un problema è un problema un po' in tutti i cimiteri perché quello di Rosciano è il più evidente anche per le dimensioni e i numeri ma anche nei più piccoli ci sono situazioni difficili quindi va fatto e abbiamo già ragionato anche con l'assessore di fare un piano abbiamo individuato anche un primo finanziamento che dovremmo portare in variazione stavo continuando a leggere gli altri messaggi però ecco cerchiamo di andare avanti anche con la nostra scaletta per racchiuderli un po' tutti partiamo dai cartieri adesso in partenza dall'Arzilla sindaco sì anche qui tra pochi giorni partirà il ripascimento di un tratto di litorale che va dal torrente Arzilla verso Pesaro lì fra l'altro avete visto anche i danni che ha causato il maltempo sul torrente Arzilla a metà luglio dopo le indificazioni perché in questa fase ci sono le indificazioni quindi andremo a fare un danno ambientale si farà la pulizia del verde fino al tratto urbano e a settembre la rimozione dei limi ci sono alberi caduti nel fosso lungo la Flaminia dopo il ponte ci segnalano un intervento importante atteso anche quello su Viale Battisti esatto anche questo saranno quegli interventi legati al waterfront cioè la parte dell'anfiteatro Rastat che andrà veramente a rendere più bello uno degli ingressi del mare e in questa è una situazione per chi lo attraversa non degno di quella parte lo abbiamo fatto a Monte i primi anni gli accessi da parte della statale e quindi partiranno i lavori da Piazza Rosselli nella settimana del 19 giugno fino a luglio poi si sospenderanno nel mese di agosto perché siamo nel pieno dell'estate anche per le ferie che devono fare i lavoratori della ditta fino agosto e poi entro settembre si concluderanno i lavori lì successivamente fino a maggio del 2024 che è prevista la data di riconsegna del lavoro ultimato ci sarà un senso di marcia alternato anche qui ci scusiamo in anticipo però se vogliamo fare il lavoro inevitabile che rifaremo tutto le marciapiedi quindi rifaremo tutto il tratto transitabile diventerà veramente una bella cartolina Buonasera Sindaco è possibile aggiungere dei giochi al Parco di Bellocchi accanto a Piazza Bambini del Mondo? Adesso lo segnalo non posso rispondere su due piedi perché può sembrare banale è una piccola cosa effettivamente una piccola cosa però ha fatto sempre un impegno di spesa una programmazione quindi se abbiamo dei margini per poter incidere subito penso che una cosa si possa fare altrimenti va programmata per la prossima primavera ce ne scusiamo Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo in diretta Siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Fano Massimo Seri io mi scuso cerchiamo di arrivare dappertutto però ci state scrivendo in tanti andiamo a Carrara Sindaco allora iniziamo da questo messaggio perché ce ne sono diversi sto chiamando dall'ultima frazione di Fano alla frazione dei dimenticati cosa ci vuol dire riguardo i lavori di insonorizzazione della centrale che dovevano essere terminati alla fine di maggio e ancora un'altra persona ci ha inviato delle richieste dicono anche che i soldi delle compensazioni della nuova centrale di Carrara andranno alla biblioteca che cosa ci dice a riguardo? Beh intanto dico che faremo un incontro pubblico con Terna a Carrara il 14 se non sbaglio dove parleremo di tutte queste cose io ho già detto che le risorse che vengono a disposizione Carrara ha priorità sulle cose che servono sul quartiere c'è un elenco che penso vengano riconosciute che io conosco anche bene quindi penso che non abbiano problematiche poi ovviamente ci sono anche altre realtà come giù a Baia no Baia Metauriglia dove arriva e quindi faremo ragionamenti direttamente lì con loro e con Terna per quello che riguarda gli interventi gli interventi li stanno facendo e anche su questo abbiamo chiesto nell'ultimo incontro che abbiamo avuto delle lucidazioni e verranno anche qui verranno riportate tutte le informazioni e il rendiconto di tutti gli interventi che si stanno facendo che sono anche in linea poi il tema vero è capire quanto siano effettivamente efficaci gli interventi eseguiti e questo lo si vedrà soltanto al lavoro terminato che c'è la prova del 9 si vede l'efficacia Sindaco il percorso della ferrovia Fanurbino è indecoroso per la crescita della vegetazione vicino alle abitazioni intende intervenire per chi è RFI Proveda Sì noi questo ovviamente sono segnali che facciamo continuamente un intervento visto lo hanno fatto recentemente probabilmente questi sono altri tratti poi non nascondiamoci dietro un dito purtroppo una volta intervenuti l'erba ricresce in breve tempo e non è che si possa pensare che ogni 15 giorni come facciamo nel nostro giardino possono esserci interventi di questo tipo lì però va detto che sono stati un periodo molto lungo senza intervenire tant'è che abbiamo visto che era diventato un intervento importante in alcuni tratti è già stato fatto e adesso dove non è ancora eseguito faremo ulteriore sollecitazione ci scrivono anche da Ronco Sambaccio per quanto riguarda le frane il sindaco spiegava all'inizio della puntata che sono stati richiesti dei fondi importanti per intervenire insomma in tutte queste zone situazioni pericolose e poi ci chiedono anche per la potatura delle querce lo sfalcio dell'erba ecco sullo sfalcio dell'erba ci stanno arrivando tanti messaggi noi abbiamo un accordo importante dove mettiamo risorse anche significative per il taglio dell'erba e ovviamente con le piogge ci sono state noi possiamo pensare l'erba pioggia sole cresce subito e non è che contemporaneamente si può essere operativi in tutta la città c'è un piano che verrà fatto gran parte è in competenza di Aset in altre ci sono altre ditte che hanno il compito di fare per esempio ai latti delle strade però anche su questo ovviamente si può fare sempre di più è anche un tema di risorse che noi destiniamo non è che possiamo mettere tutte le risorse per tagliare l'erba ovviamente però vorrei ricordare com'era nel 2014 quando sono arrivato è come oggi la situazione io ve lo ricordo anche perché l'ho vissuto in prima persona c'è stata una trasformazione importante penso alla ciclabile che va dall'Arzilla fino a Fosso Seggiore prima una situazione pesante adesso noi facciamo 6-7 tagli rispetto ai due che si facevano prima è una nota curiosa non so se ve lo ricordate io me lo ricordo pochi giorni settimane della mia elezione vado verso il pincio e ho trovato un cartello cambiano i sindaci ma l'erba è sempre la stessa quei cartelli più non li abbiamo più visti ricordo i consiglieri di opposizione che facevano le foto sulle rotatorie con le sedie con l'erba che arrivava oggi non si fanno più quelle cose perché? perché non c'è più motivo significa che è migliorato molto il livello della manutenzione poi è chiaro ci dimentichiamo com'è guardiamo solo le cose che non vanno ed è giusto perché bisogna sempre migliorarsi però è anche giusto e direi anche onesto riconoscere un miglioramento importante che c'è stato in questi anni allora chiedono ancora delle strade degli asfalti tra poco vi daremo l'elenco andiamo avanti con l'efficientamento energetico sì anche su questo devo dire la nostra amministrazione ha ottenuto risultati importanti a cui se ne sono aggiunti altri dove partiranno i lavori nella scuola Nuti e la Gandiglio la palestra Zattoni la scuola materna la Trottola casa Archilei quindi sono interventi di efficientamento ma che diventano anche interventi di riqualificazione di sistemazione prima avevamo parlato dei cimiteri oltre di risorse che abbiamo attinto dal GSE questo è importante quindi sono tutte risorse che abbiamo preso dallo Stato dicevo parlavamo prima di cimiteri ci dicono che in quello di Rosciano piove al padiglione 5 all'interno bisogna mettere la carta catramata dice il telespettatore o la telespettatrice effettivamente anche nei giorni scorsi ci sono arrivate diverse foto per questa situazione di disagio Frana Di Carignano entro i mesi di giugno come dicevo prima parte il cantiere per sei mesi di lavoro un altro argomento di cui abbiamo parlato spesso nelle scorse puntate è quello che riguarda la strada delle bar entro la metà giugno faremo la bonifica bellica nell'area del Luna Park e poi partenza del lavoro è ottobre invece per la fognatura di Sassonia anche qui partono i lavori a settembre settembre-ottobre anche questa è una cosa che si richiede da tanto qui abbiamo attinto da un fondo PNR abbiamo messo risorse nostre di ASE e quindi si fa questo lavoro intervento importante di 1.750.000 euro ci hanno chiesto informazioni anche per il sottopasso a Ponte Sasso ricordo di aver intervistato l'assessore Brunori diversi mesi fa quando partiranno i lavori a metà settembre volevamo farli prima dell'estate non ci siamo riusciti però a settembre partono anche qui un lavoro importante che va a riqualificare la zona di Ponte Sasso che si aggiunge ai lavori fatti sulla ciclabile sul muretto gli anni precedenti tutta la manutenzione delle strade di Ponte Sasso che le abbiamo asfaltate tutte quindi Rio Crinaccio come dicevo adesso faremo un lavoro anche nel centro sociale per cui insomma segnali importanti del sottopasso che è anche quello un biglietto da visita perché è l'ingresso nel mare a settembre però se lo godranno poi anche l'estate successiva al Vallato avete previsto degli interventi sul sintetico sindaco? sì sono stati affidati i lavori penso visto stamattina che passavo c'erano dei mezzi penso che siano lì per lavorare per questo anche in altri quartieri della città o solo al Vallato? no anche a Sant'Orso c'è un altro intervento poi sulla Zengherini partiranno i lavori a luglio della tribuna e poi del tunnel anche questo è un intervento importante di un'infrastruttura sportiva utile che potrà attrarre anche attenzione e poi ci sono altri ragionamenti che stiamo facendo che abbiamo fatto anche in parte per quello che riguarda anche rapporti con il calcio con il campo dei militari e lo stadio poi dei ragionamenti che dobbiamo riprendere anche per il palazzetto dello sport però su questo preferirei intervenire quando ho più elementi concreti da poter riportare alla gente le chiedono sindaco ma la variante di Centinarola si approva? domani ne parlerete in consiglio non ho la sfera magica quindi fra l'altro quando termino qua ho una riunione importante con i consiglieri comunali ovviamente sono quelle questioni che dividono che hanno un percorso quando i percorsi sono lunghi poi anche i ragionamenti che si fanno quando maturano a distanza di anni poi si mutano perché ovviamente sono situazioni anche nuove qualcuno fa riferimento al PNRR ma quando è partito il ragionamento non c'erano e ovviamente come tutte le cose ci sono molte persone che spingono perché si faccia c'è stata anche una raccolta di firme che è stata consegnata oggi dai residenti che la vogliono altri residenti che non sono contenti la politica ovviamente è naturale mi preoccuperei se non fosse così si divide poi più ci avviciniamo alle elezioni più il sindaco diventa somaro brutto e cattivo ovviamente questo sta nel gioco delle parti però vediamo domani ovviamente sono quegli interventi che lasciano un segno hanno anche una forte validità pubblica perché ci sono degli interventi importanti per il pool la scuola però vediamo domani cosa dicevano di fare invece per quanto riguarda gli impianti sportivi prima citava anche lo Zengarini l'ambito lì dell'intervento sì lo Zengarini che partiranno alle lavori a luglio lì è un altro impianto insomma bello importante che può diventare attrattore anche di iniziative importanti andiamo sugli asfalti sindaco chiede uno Sassonia zona Sant'Ur sì poi volevo dire abbiamo concluso le gare per alcune scuole la scuola materna di Cucurano il nido del girasole il nido di Bellocchi come vedete anche queste sono cose importanti che ovviamente non inaugurerò io lo lascerò in eredità al nuovo sindaco o sindaca però ovviamente questo è un lavoro importante che abbiamo fatto dopo torniamo a parlare anche del water fronte insomma a tutte le gare in corso allora gli asfalti gli asfalti allora anche qui adesso arriverà un bel intervento importante nella città però vorrei dire anche questo in questi giorni tanta gente mi ferma le strade sono ancora a Brodo dovete intervenire vero infatti interveniamo però in questi nove anni noi abbiamo asfaltato circa 130 km di strade sfido a vedere a fare un'analisi storica della nostra città in nove anni quale amministrazione ha asfaltato 130 km di strade ma hai cambiato il materiale che magari qualcuno può pensare si asfaltano no poi è chiaro poi è chiaro quelli asfaltati nove anni fa oggi le prime asfaltature le abbiamo fatte nel 2015 è chiaro che alcune del tempo poi hanno però stanno resistendo quasi tutte quelle sono 400 km le strade abbiamo fatto molti interventi noi si diceva pensate sempre al centro in realtà i quartieri alcuni quartieri li abbiamo asfaltati tutti mi parlavo prima di Ponte Sasso penso a Rosciano per citarne alcuni adesso faremo ulteriori interventi in quei quartieri dove mancavano alcuni interventi importanti alzate il volume della televisione sì adesso o leggo tutto l'elenco ne lascerò alcune perché sfuggeranno se no se volete le leggo tutte quelle previste direi di sì così che ed è nostra intenzione a questo aggiungere altre strade allora via Vampa che è in corso via Inaudi via Meda che sono la zona industriale via Inaudi ovviamente una parte perché questi sono interventi da 700.000 euro 300-400 a botta sono molto costosi non è che abbiamo il pozzo di risorse via Roma abbiamo fatto la statale adesso via Roma facendo gli interventi perché alcuni tratti sono problematici poi via Fossa Sant'Orso via Le Trento via Dello Squero largo via Bertini via Gramolini piazzale dei Calafatti vicolo di via Dello Squero vicolo di via Cesare Simonetti vicolo del Google questa è la zona Lido che in diverse circostanze ci avevano richiamato alcune cose penso al Google è anche di richiamo bello e quindi è giusto dargli poi via Liguria via Lazio via Dolomiti via Tagliamento questa è la zona Fanfani Poderino strada comunale Ponte Alto anche questa segnalata tanto tempo via Giovanni Loretti via Pizzetti tratto cieco via Nicolò Pellipario via Luca della Robbia via Nicolò da Fano tratto cieco a Monte via Goito collegamento circuito Marconi poi tornando a Santorso via Petri via Fratelli Lumiere divisione Carpazzi via Girolamo Soncino anche qui sono alcune strade che erano veramente una situazione critica poi andiamo alla strada comunale di mezzo di Tombaccia anche questa è stata richiesta quindi anche tra le chiamate ci siamo via Giuseppe Cottognolo la rotatoria di fronte alla Saip la volta precedente abbiamo fatto l'altro tratto adesso facciamo anche la rotatoria che è una situazione difficile poi la strada comunale Petruccia la strada comunale del Boschetto e qui andiamo nella zona verso Fenile verso Carignano il molo dell'Ido dell'Arzilla che è uno stato non decoroso per essere nel lungomare via Franceschini via Triestre via della Paleotta via del Domenichino via Domenichio parte alta via Domenichino parte bassa via Girolamo da Fano un tratto via del Guercino via Reni via Nicolò da Fano il tratto mare poi andiamo in un'altra realtà periferica Sant'Andrea in Villis dove faremo tutta una serie di strade che erano state interessate dai lavori di sottoservizi perché non dimentichiamo che abbiamo portato abbiamo fatto interventi per l'acquedotto anche una cosa è un impegno che ci eravamo presi perché non poteva esserci ancora alcune parti sappiamo cosa significa non avere l'acqua a disposizione poi via Galileo Galilei l'ho detto prima che rientra nel progetto di Famose con via Bellandra via Le Mariotti che penso sia stato fatto lo fanno a giorni e piazzale Bonci e a settembre lo ripeto il parcheggio di Sport Park quindi è un bel intervento in questa fase e se riusciamo dovremo riprogrammare un altro intervento per la primavera dell'anno prossimo torniamo un attimo alle gare in corso sappiamo che nei prossimi mesi ci potrebbe essere questo tanto atteso taglio del nastro della nuova piscina del centro natatorio ma lì ci sarà anche la ciclabile quindi è una gara in corso per l'affidamento dei lavori della nuova ciclabile che va verso il centro natatorio e poi abbiamo i due waterfront quello di di Sassonia e di Torrette che esce adesso il 5 giugno entrambi per far poi partire appena finisce la stagione velocissimamente sperando di trovare ditte che fanno i lavori come si deve di non trovare intoppi perché qualche sorpresa può sempre arrivare speriamo di no ecco qualcuno prima ci scrive ma Torrette è stata dimenticata no no Torrette c'è ci sono anche alcuni asfalti che abbiamo fatto che dobbiamo fare quindi proprio sul lungomare questo è o poi su Torrette c'è un discorso più ampio perché ovviamente noi facciamo i ragionamenti sulle aree di nostra proprietà e lì c'è un progetto veramente bello e che può rilanciare questo è un primo intervento del waterfront a questo deve eseguire un altro però è legato ai terreni privati che sono al a monte della ferrovia per fare l'altro intervento quindi eliminare il piazzale per renderlo bello come è avvenuto nelle coste andando verso nord però deve dialogare e dobbiamo creare delle zone di parcheggio a monte della ferrovia poi c'è l'exagip che viene lo stesso appaltato il 5 giugno e il piazzale Andrea Costa sempre il 5 giugno e poi sono le gare da fare che ovviamente sono tantissime la ciclavia di Viale Kennedy e l'aumento raddoppio del parcheggio camper vicino al cimitero urbano ecco che dire insomma non si può negare che stiamo facendo tante cose per la città poi non tutte piacciono mi viene in mente adesso che qui non c'era il tema anche del sottopasso di Viale Cairoli io capisco anche qui io mi prendo un merito sono riuscito a reperire 4 milioni di euro da RFI per il sottopasso di Viale Nazario Saro che consentirà di andare a piedi dalla Darsana Borghese fino al Faro e il nuovo sottopasso di Viale Cairoli ricordo che le critiche poi ci dimentichiamo sempre dipende come si imposta la polemica prima che presentassimo la proposta di un sottopasso le polemiche erano che erano decente c'erano delle barriere stretto questo è un sottopasso importante dopo io non faccio l'architetto ci affidiamo non è che possiamo andare a scegliere chi ci piace di più abbiamo delle regole anche noi in questo caso il finanziamento come ho detto 4 milioni di RFI e 500 mila li abbiamo messi noi come copartecipazione però diventano quei sottopassi ciclabili pedonali più ampi poi ripeto c'è altri problemi anche con le piante ma o lo facciamo o non lo facciamo non è che ci sono tante alternative io poi alzo le braccia ripeto facciamo tutte queste discussioni perché noi stiamo portando tanti lavori perché quando queste discussioni non c'erano perché non si faceva niente poi quando le cose si fanno a quelle volte si commette anche degli errori io non mi nascondo dentro il dito ci metto sempre la faccia nel bene e nel male l'ho sempre fatto e continuerò a farlo fino all'ultimo giorno però lo faccio pensando al meglio per la mia città allora sindaco allora sì ok per quanto riguarda l'erba intorno all'aeroporto dicono che purtroppo qui è una situazione di degrado se è possibile tagliarla anche altre vie hanno elencato ci sono alcune zone che sono di competenza di Aset poi inizia come lei può immaginare tutto l'elenco delle strade che non sono state comprese nell'elenco che lei ha detto non possiamo metterci a citare tutte le strade che voi ci segnalate però ce ne sono altre che devono essere incluse magari qualcuna mi è anche sfuggita sicuramente ci sono altre strade che necessitano poi stiamo preparando già il progetto per un altro intervento importante sulla quale perché io per esempio sono due o tre strade che mi vengono in mente su cui mi ero anche speso che qui non ci sono poi avremo anche un ribasso che potremmo utilizzare per alcune strade che non ho incluso nell'elenco però a queste ne aggiungeremo delle altre Volevo invece chiederle un commento sulle elezioni perché oggi abbiamo visto che il centrodestra ha ottenuto una vittoria storica ad Ancona ma anche a Porto Sant'Elpidio con i ballottaggi e le urne che si sono chiuse alle 15 pensa che possa essere un po' anche beh le elezioni sono sempre da quello che può accadere qua il prossimo anno sì poi le elezioni da un anno all'altro in politica sono un'era glaciale nel senso sono tempi brevi ma lunghi possono accadere tante cose l'abbiamo visto già con le elezioni precedenti che avevano avuto una tendenza diversa però c'è una conferma di un forte consenso delle amministrazioni di centrodestra e poi bisogna capire le dinamiche delle città è chiaro che per esempio anche Fano l'ultima volta la tendenza del voto era inversa poi in realtà le europee sono andate in un modo e le comunali in un altro sono elementi che condizionano la scelta del candidato perché sbagliare il candidato significa partire con una penalità poi dipende dalle proposte che si fanno per la città come vengono raccontate e spiegate ovviamente come ad Ancona anche a Fano ci sarà la chiusura di un ciclo perché ovviamente io sono al secondo mandato e terminerò e quindi il prossimo sarà pensa che Fano possa rimanere in mano al centro-sinistra è difficile fare previsioni ma secondo me le forze in campo si equivalgono quindi la differenza la farà la proposta che sarà una nuova proposta perché come dicevo quando si chiude un ciclo giustamente non possiamo essere validi per tutte le stagioni quindi è anche giusto che ci sia un ricambio quindi ci sarà una proposta nuova da parte del centro-sinistra ci sarà una nuova proposta del centro-destra che avrà ripeto la sensazione che le forze in campo si equivalgano che avrà la capacità di scegliere il candidato più giusto e con la proposta più convincente vincerà le elezioni ci può dire qualche nome sindaco visto che ormai ma adesso ancora è prematuro c'è l'estate dopo l'estate io ricordo che lanciai la mia candidatura nove anni dieci anni fa a settembre puntando sulle primarie come? puntando sulle primarie lei è d'accordo? beh no io avevo lanciato la mia candidatura poi a febbraio a settembre del 2013 poi in un ragionamento con la coalizione che si andava a formare avevamo scelto le primarie come strumento però anche questo possono essere un'opportunità saranno coloro che poi scenderanno si impegneranno a decidere anche le forze non è giusto che lo faccia il sindaco uscente sindaco grazie per essere stato con noi e poi ci rivediamo nella prossima stagione di Primo Cittadino che torna a settembre ottobre insomma poi vedremo anche in base al nostro palinsesto grazie mille buona serata grazie buona serata grazie anche a tutti i nostri telespettatori abbiate come sempre pazienza perché veramente i vostri messaggi sono tantissimi per noi è impossibile leggerli tutti grazie per averci seguito vi ricordo che l'informazione torna domani mattina alle 7 con la nostra rassegna stampa un ringraziamento anche alla regia Riccardo Sora e Cristiana Guerra sindaco grazie ancora per essere stato nei nostri studi e a voi tutti una buona serata grazie a tutti